Nessuno è dimenticato e se io ho qualche persona, parenti o amici che sono nel bisogno o hanno passato di questo mondo all'altro, posso nominarle in quel momento o interiormente, in silenzio, o fare scrivere che il nome sia dito. Ah, padre, quanto devo pagare perché il mio nome venga lì? Niente. Capito questo? Niente. La messa non si paga. La messa è il sacrificio del Cristo che è gratuito. La redenzione è gratuita. Se tu vuoi fare un'offerta, falla, ma non si paga. Questo è importante capirlo.